Ciao a tutti ragazzi, riaccomi qua, sono Megateaker, era un po' che non vedevate il mio faccione, era un po' che non vedevate il mio bel cappellino e vi starete chiedendo cosa ci fai in cucina, ebbene sì questa è la cucina di casa mia perché sono in cucina? Beh i più attenti più furbi avranno già visto dall'anteprima, dalla miniatura del video e dal titolo che oggi sono qua non per recensire un apparecchio da gaming, non per recensire un apparecchio di elettronica in generale sapete che io porto anche quella, ma ebbene sì oggi sono qui per recensire questa nuova lavastoviglie vi starete chiedendo perché mi butto su un video del genere che farà 10 visualizzazioni ebbene a me non me ne frega nulla delle visualizzazioni, mi interessa soltanto magari dare una mano a chi come me ha cercato informazioni su LG, la nuova lavastoviglia di casa LG e non ha trovato nulla se non i soliti video pubblicitari dove fanno vedere le eliche che girano, fanno vedere quanto sono belli i cestelli ma poi non vi dicono sulla carta com'è questa lavastoviglie io ne vengo da un'esperienza tra l'altro disastrosa, 3-4 anni fa presi una Samsung bellissima esteticamente salvo poi essere un calvario sotto il punto di vista funzionale e soprattutto di affidabilità unito questo a un'assistenza veramente angosciante qua dalle mie parti purtroppo se ne occupa solo la città principale non vi dirò per privacy che città è, Belin ma ad ogni modo come vi dicevo l'esperienza è stata tragica, ho speso una forgata di soldi e poco tempo fa l'ho dovuta cestinare vi dicevo che prima c'era una novità questa novità lavastoviglia chi mi conosce un po' sa che io amo il marchio LG non sono un fanboy, non sono dietro LG perché così mi piacciono le due scrittine ma semplicemente perché tutti i prodotti compresi gli elettrodomestici in casa mia si sono sempre comportati molto molto bene alla notizia quest'estate che LG avrebbe fatto la sua nuova lavastoviglie beh non ci ho più visto e quando per l'ennesima volta Samsung mi ha dato problemi beh vi dico la verità un sorrisino mi è venuto fuori e ho preso la palla al balzo e ho comprato la lavastoviglie ma visto già morbando questo video già avrà una scarsa visibilità in più se stiamo qua a parlare per delle ore senza dirvi nulla beh sarà destinato veramente al fallimento vi dico solo due cose il modello è il DF222 FPS vedete che rimango sempre in tema videogiochesco si tratta comunque del modello base io l'ho pagato 700 qualcosa euro costa di listino 800 quindi di base veramente non ha tanto il prezzo però se andate sui modelli successivi il prezzo si eleva anche a 900-1000 euro la differenza io ho scelto questa perché non ha il terzo cestello dove mettete in piano le posate ma ha il classico suo cestello che lo tirate fuori ve lo portate dove volete e mettete le posate dritte ultima cosa poi veramente passiamo all'interno della lavastoviglie questo modello ahimè non ha l'apertura automatica finale e questa a me sinceramente dispiace parecchio perché quella aiuta a far uscire vapore e alla lunga se vi scordate o comunque lo fate di notte quindi se ne parla di svuotarla al giorno dopo aiuta a non far prendere odore ai piatti ma come promesso adesso andiamo a vedere insieme la nuova bestia in casa Megateaker e eccoci qua davanti alla lavastoviglie ragazzi vedete non è un classico bianco è una tinta acciaio titanio a me piace molto anche la Samsung che avevo prima era così e infatti ahimè ero capitato da loro proprio per una questione estetica come vedete in questo modello i comandi sono sul davanti non sono all'interno come succede in quelle più fighe ma io sinceramente lo preferisco anche perché mentre sta andando il ciclo almeno qua davanti ho il display comunque ho i comandi e non mi tocca aprire il portello mentre va alla lavastoviglie se voglio verificare appunto alcune cose del ciclo andiamo quindi ad aprire la nostra lavastoviglie tiriamo fuori il primo cestello quello alto e subito balza agli occhi la possibilità di abbassarlo in 448 e rialzarlo questo ovviamente lo saprete meglio di me per facilitare il posizionamento di pentole e pentolami più alti del dovuto di sopra o di sotto il cestello rispetto a quello che avevo prima è piuttosto alto e quindi questo permette di mettere tante cose senza pericolo che caschino ai lati vedete qua che è tutto ben chiuso e facendoci un po' di pratica perché ogni lavastoviglie va fatta la pratica per posizionare al meglio e ottimizzare gli spazi vi assicuro ci sta veramente tanta roba dai lati abbiamo i vassoietti per posizionare i bicchieri di cristallo mettere alcune tazzine e piattini sopra insomma per posizionare in diversa maniera della roba da questo lato io sinceramente non li uso infatti sto pensando di andarli a levare del tutto in modo da guadagnare questi due centimetri di spazio non so quanto riuscite a vedere questo padellone sotto quello che spruzza di fatto sulle stoviglie è un padellone di sezione di larghezza molto abbondante questo gli ha permesso vedete di avere diversi buchi e quindi avere più getti d'acqua il pezzo forte a dire vero comunque sono i padelloni di sotto vado un attimo a togliere il cestello e poi affronteremo anche quell'argomento come vedete qua ci sono 4 eliche girevoli la figata è che queste qui argentate vedete hanno un meccanismo non so se lo riuscite a apprezzare che le fa flettere da un lato o dall'altro meccanicamente appunto durante il suo funzionamento questo fa sì che gli spruzzi d'acqua non siano unirezionali ma di fatto varino angolazione mentre questa gira lo so che sembra una pubblicità mi direte Megatica hai visto le pubblicità adesso ci porti una pubblicità e no ebbene io ve lo dico perché effettivamente ho constatato che questo sistema è veramente veramente notevole già che siamo in questa parte vi faccio vedere quelli che sono un'altra caratteristica LG io sinceramente non so quanto funzioni la cosa vi posso dire che sono uno di quelli che i piatti non li risciacquano li mettono sporchi levano solo la roba solida e quindi metto a dura dura prova le mie lavastoviglie questi sono ugelli per l'uscita del vapore il vapore che sostituisce di fatto il pre lavaggio cosa che avviene spesso e volentieri anche ad acqua fredda in alcune macchine invece in questo caso abbiamo del vapore che esce ad altissima temperatura di fatto è vapore e va proprio a sciogliere LG ci dice a sciogliere i grassi e l'unto dalle stoviglie qua sotto abbiamo il filtro molto facile lo smontaggio eccolo qui in un attimo si lava e poi in un attimo si riposiziona all'interno della lavastoviglie classico vassoietto per il sale vi segnalo che LG da una carta di tornasole una sorta di carta tornasole in realtà proposta al verificare la durezza dell'acqua durezza dell'acqua che poi vi farà propendere andrete a vedere nel libretto di istruzione come impostare il dosaggio del sale durante i cicli ecco qua che ho rimesso il mio cestello inferiore per farvi vedere quello che ha fatto propendere nella scelta della lavastoviglie il classico cestello porta posate questo cestello ha i coperchietti per posizionare singolarmente ogni posata cosa che io non uso mai se no andavo sul modello dove dovevo posizionare singolarmente sopra le posate mi piace sbatterle qua dentro un po' a muzzo e poi trovarmele lavate di fatto queste due scanalature permettono il posizionamento in tutta la larghezza della lavastoviglie sia davanti che nella parte posteriore nella parte posteriore abbiamo la possibilità di ribaltare i nostri gancetti in modo da mettere delle pentole o delle cose più voluminose senza spaccarli senza rischiare di piegarli la parte anteriore invece è fissa nella parte anteriore come in quella posteriore ci sono poi due diverse dimensioni di questi gancetti questo serve a poter mettere non fare inclinare troppo piatti anche abbastanza voluminosi che altrimenti guardate qua andrebbero a stare troppo inclinati e di fatto sovrapponendosi con degli altri rischieremo in questo modo con questa angolazione di andare a lavare male quelli che sono dietro al primo mi direte quanto dovrei parlare ancora dei lavastoviglie? ebbene sì in realtà ci sono alcune chicche guardate questo cestello il fatto che abbia scomparti diversi vi permette questo avete un lungo mestolo e non lo volete ma andare sopra o comunque posizionare in orizzontale ebbene sì in un classico cestello come vedete andrebbe abbattuta il fatto di avere uno spazio maggiorato qui permette al mio mestolo di inclinarsi e facendo così come vedete resta tutto molto molto libero di rigirare e funzionare ebbene ragazzi vi ho elogiato il funzionamento la scompartimentazione interna ma andiamo in quelli che invece sono le parti che mi piacciono di meno della lavastoviglie eccoci qua a parlare degli scomparti dove vanno inseriti il sapone e il brillantante il brillantante non ho nulla da dire uno sportellino comodo si butta il brillantante qua dentro si va a chiudere e va bene così per quanto riguarda il sapone mi piace il fatto che questa conchetta sia molto profonda alloggia bene tutte le pastiglie in commercio ma quello che non mi piace è questo sistema di chiusura questo tastino ha veramente la faccia l'aspetto di essere molto delicato e solo il tempo ovviamente mi darà ragione o torto spero sinceramente di avere torto ma ogni volta che lo vado a chiudere a parte che spesso vedete manco la chiusura questo tastino mi sembra molto delicato e mi dà l'impressione che si possa rompere da un momento all'altro la molla il meccanismo di chiusura chiudiamo di nuovo la lavastoviglie tra l'altro vi dico che la chiusura è veramente bella sentite il bel tlac un tlac deciso, preciso che non va a scivertare il portellone perché spesso in alcune lavastoviglie quando io vado ad aprire o comunque vado a chiudere vedo il portellone che si muove si sciverta mi fa molto molto senso la chiusura quindi è molto precisa non ho mai avuto perdite d'acqua e meno male ma andiamo sul davanti accendiamo col tastini touch la nostra lavastoviglie e vedete qua un bel display e tutte le scrittine per andare a impostare i vari cicli ebbene sì questa è un'altra cosa che potrebbe creare problemi a qualcuno come vedete le luci sono sopra le scritte va bene è bello che si segnali ma vi assicuro che quando c'è poca luce magari alla sera magari alla notte andare a leggere queste scrittine può risultare un problema lg avrei preferito avessi fatto una retroilluminazione magari disattivabile dietro le singole scritte in modo che di notte o comunque in scarsa visibilità uno magari con un tastino avrebbe potuto accendere le scritte e andare a leggere più agilmente le varie impostazioni non vi sto a fare tutto il pippone dell'intensivo delicato refresh turbo tutto quanto perché sono i classici programmi che ogni lavastoviglie ormai ha quello che vi posso dire vedete P1 che tramite applicazione smart che poi vi faccio un secondo vedere posso andare a scaricare dei programmi dedicati ma sinceramente mi sembrano cose più commerciali che altro la lavastoviglie già con queste impostazioni lava benissimo e ti permette di fare comunque un sacco di lavaggi personalizzati possiamo andare ad azionare il vapore quello che vi dicevo essere il pre lavaggio in casa LG possiamo andargli a dire alta temperatura ovviamente il tempo sale possiamo andargli a dire che vogliamo un'asciugatura extra oppure no e per quanto riguarda l'asciugatura anche questa lavastoviglie si affida alla classica condensazione partenza ritardata per fortuna di fatto indica le ore dopo le quali la lavastoviglie partirà io odio quelli che invece partono ritardato dicendoti a che ora finiranno il lavaggio non ci capisco una mazza purtroppo sempre più spesso si trovano queste lavastoviglie io preferisco sinceramente potergli dire fra quante ore partire un'ora, due ore, tre ore poi so quanto dura il ciclo e mi regolo di conseguenza questa è la sfia del wireless perché come vi dicevo la lavastoviglie può attaccarsi al vostro modem di casa e comunicare con la vostra applicazione di fatto come vi dicevo questa è una cosa più scenografica che utile io vado a impostare il mio ciclo gli vado a dire start e come vedete dal mio telefonino una notifica che la lavastoviglie è in partenza io ci clicco sopra ed ecco lì che mi viene elencato quelli che sono state le mie scelte a livello opzionale il tipo di lavaggio ecco in questo caso che è stato preso la durata e anche direi la fine del lavaggio quindi non dovete andare neanche in realtà a fare quel conteggio che vi dicevo per sommare le somme di ritardo alla partenza e il tempo del lavaggio quello che in realtà è figo di questa applicazione è il fatto che io posso andare a downloadare a scaricare appunto i programmi di lavaggio che vi dicevo secondo me non essere utilissimi ma comunque è una cosa in più e c'è si possono avere informazioni sulla procedura di pulizia vedete vi dice quanti cicli di lavaggio e ogni quanti dovrete andare a pensare di lavare la lavastoviglie ma la cosa più carina è lo smart diagnosis di fatto io posso fare una verifica in 448 di tutti gli elementi interni della lavastoviglie per vedere vedete le spunte positive se tutto funziona correttamente ebbene sì ragazzi mestolo in mano non fatemi arrabbiare siamo alle conclusioni di questo video di fatto ho voluto farvi vedere una carellata di caratteristiche della lavastoviglie farvela conoscere un po' nei dettagli ovviamente se avete domande giù in descrizione io sono disponibile sapete rispondo sempre a tutti ma ci tenevo anche a farvi vedere quei tre punti adesso li riassumiamo un attimo se non vi siete ancora addormentati che secondo me potrebbero essere migliorabili in casa LG ragazzi dell'LG pensate anche a noi che non vogliamo quel terzo cestello l'apertura automatica della lavastoviglie per 800 euro potevate anche mettercela andate poi a rivedere quel tastino che secondo me è molto molto farlocco speriamo che non si rompa che non crei dolore per il posizionamento del sapone e poi pensiamo anche a quelli ciechi come me che qua davanti le scrittine gradirebbero vederle un pochettino meglio al di là di questo non posso dirvi che per quello che ho utilizzato questa lavastoviglie io sono veramente veramente soddisfatto quindi se vi è piaciuto quello che avete visto sappiate che LG è disponibile anche per le lavastoviglie io fino adesso vi dicevo all'inizio avevo la lavatrice e l'asciugatrice che funzionano perfettamente spero quindi in una resa uguale delle lavastoviglie e con questo diciamo che siamo giunti al termine vi è piaciuto il video lasciatemi un like se qualcuno di voi ha dato una sbirciata al canale trova interessante anche le altre cose che faccio iscrivetevi accendete la campanella e noi ci vediamo come sempre al prossimo video vi saluto ancora qui è Megaticker e ciao ciao